Si erano conosciuti su internet e dopo qualche messaggio scambiato via chat, si erano dati appuntamento per incontrarsi. Per l'occasione la vittima, un uomo di 41 anni, aveva messo a disposizione casa sua Torcarbone. Dopo l'incontro l'ospite, un turco 21enne, ha estratto un coltello con cui ha minacciato il proprietario dell'appartamento per rapinarlo. Ne è nata una colluttazione. La vittima poi è stata accoltellata e soccorsa operata al San Camillo. L'aggressore è stato fermato a Piazzale Ostiense e rinchiuso nel carcere di Regina Celi. Dovrà rispondere dell'accusa di tentato omicidio.